Numerose le scuole e bambini, ragazzi di tutta l'età, insegnanti, genitori hanno assistito stamane al villaggio Rosa, dove hanno accolto i ciclisti con partenza da Piazza Salotto alle ore 6.30, il percorso di 196 km da Pescara fino a Iesi. Siamo alla decima tappa, l'arrivo è previsto per le ore 17.30 circa. Siamo alla decima tappa. 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 Siamo alla decima.